Ci troviamo purtroppo in un clima di disimpegno, ma ancora di più, un clima di perdita dei valori e di fede. Le notizie che ci arrivano un po' dalla televisione, della stampa, si vede una corsa agli armamenti e abbiamo realtà che mostrano egoismo, odio, ventette. Giovanni Paolo II accenna alcune piaghe della società moderna e quindi parla dell'aborto, dell'eutranassia, l'omicidio, il suicidio e inoltre droga, alcolismo, pornografia, violenze. Cioè è una pagina nera della storia dell'umanità. L'uomo è amico dell'altro uomo o è un nemico? La pagina della scrittura parte con una pagina triste. Caino uccide Abele. Anziché essere amico anche l'uomo di oggi, anziché essere amico del suo fratello, diviene sfruttatore e persecutore fino a procurargli la morte. Il donna della vita Dio ci dona con gratitudine, con immensità e col donna della vita ci dà l'istinto della conservazione. E che significa che se ci fa male il fianco, abbiamo un dolore alla spalla, eccetera, ci preoccupiamo da questo campanello d'allarme e andiamo dal medico e il medico ci visita e ci cura. L'istinto è un altro don di Dio perché l'uomo possa vivere su questa terra bene e in serenità. Dio quindi è il padrone della vita e ha dato la vita agli uomini. La morte allora come si trova sulla terra? È semplice. La morte è entrata nel mondo al causa del peccato dell'uomo. Dio invece lo destinava a non morire. Padre Pio è il problema della morte. È bello questo che sto per dire perché veniamo a conoscere che Padre Pio in due fasi differenti ha pregato sempre perché la morte lo venisse a liberare dalle pene di questa terra. La prima fase è prima dell'estimate. Prega e fa pregare le sue figlie spirituali perché possa volare al cielo, possa morire. E il motivo era semplice. Io ho paura di pecare, io non voglio offendere il Signore. Allora muoio, vado in cielo e non faccio nessun peccato. E nello stesso tempo soffre perché vede la povertà della gente. Io vado in cielo e ottengo dal Signore l'abbondanza delle grazie. Questa è la prima fase della situazione spirituale di Padre Pio, prima dell'estimate. Una volta ricevuto l'estimate, Padre Pio cambia e non prega più per morire ma prega perché possa fare su questa terra tanto bene da salvare le anime su questa terra e quindi poi andare in cielo. Nello stesso tempo, sia per la prima fase come per la seconda fase, Padre Pio organizza le sue figlie spirituali in modo particolare, dandogli un mandato. Pregare per la mia morte. È strano, è strano. Però è Padre Pio ed è storia, sono documenti. E pregare per la mia morte. Un giorno incontra una sua figlia spirituale e gli domanda hai pregato per la mia morte. E la figlia spirituale dice ma Padre non è possibile. Come si fa a pregare perché lei deve morire? E Padre Pio dice sei ingrata perché non hai attuato il mio desiderio. Concludendo, abbiamo un segno in Padre Pio che certamente è in cielo. La scomparsa dell'estimate. Cioè in Padre Pio noi vediamo con la scomparsa dell'estimate proprio nei giorni precedenti alla morte, qualche mese precedente alla morte, quanto l'estimate dovevano andare in cancrena, si chiudono. La carne ricresce e muore senza nessuna piaga. Che cosa ci dice questo? Che abbiamo la risurrezione della carne a cui siamo chiamati anche noi. La carne ricresce e muore senza nessuna piaga. Grazie a tutti.